Benvenuti a Un anno in 4 minuti, oggi siamo con il comandante della Polizia Municipale Stefano Poma, si è chiuso un 2016, per voi ricco di soddisfazioni nonostante il cronico problema di organico? Sì effettivamente l'organico è sempre un problema, è un problema per tutti, l'amministrazione ha fatto partire le procedure per assumere 15 nuovi operatori e quindi confidiamo di migliorare la situazione. E' chiaro che nonostante ciò nel 2016 sono fatte tante cose, si è introdotto un servizio notturno, era una richiesta che già era arrivata verso la fine del 2015, si è introdotto questo servizio sul venerdì notte in particolare ed effettivamente è stato un servizio molto apprezzato, abbiamo cercato di farlo quasi tutte le settimane, non siamo riusciti proprio tutte le settimane però abbiamo fatto un bel numero di servizi. Abbiamo introdotto il servizio di reperibilità per la protezione civile dopo gli eventi del 2015 e quindi devo dire che nonostante l'organico il personale ha operato. Dal punto di vista invece dei risultati devo dire che sono molto soddisfacenti, io sono molto soddisfatto di quello che è stato fatto, abbiamo operato sui nostri canonici fronti, dall'ordine della città, abbiamo quasi raddoppiato tutte le sanzioni a tutela degli utenti deboli della strada, marciapiedi, attraversamenti pedonali, ciclabili e questo è stato un ottimo risultato. Abbiamo lavorato sulla sicurezza urbana, chiaro, la sicurezza urbana, il degrado, l'accattonaggio, il bivacco, abbiamo fatto degli interventi, le vendite di venditori abusivi, abbiamo fatto più di 230 servizi, abbiamo sequestrato, abbiamo fatto 63 sequestri e oltre 70 sanzioni. È partito di recente anche un servizio riguardante il quartiere Roma, una zona da tenere particolarmente in considerazione. Sì, effettivamente, verso la fine del 2016 abbiamo fatto una mini riorganizzazione interna e abbiamo fatto partire questo servizio dedicato al quartiere Roma, era una cosa che era già nell'aria, se ne parlava già all'inizio dell'anno, siamo riusciti nel mese di ottobre a farlo partire e abbiamo già dato anche i primi numeri, effettivamente si sono prodotti dei risultati interessanti, abbiamo chiuso delle abitazioni che erano occupate abusivamente, abbiamo fatto delle attività veramente interessanti anche nel quartiere Roma. Inizia un 2017, tra le novità che anche la gente richiede, l'installazione di telecamere, anche quelle intelligenti, quelle in grado di leggere le targhe. Anche voi siete su questa partita? Sì, sicuramente, nel 2016 abbiamo firmato il protocollo di intesa provinciale, abbiamo finito tutte le procedure di appalto e nei prossimi mesi, vorrei dire nelle prossime settimane, ma sicuramente nei primi mesi del 2017 compariranno le nuove telecamere. Poi voglio dire che con i cittadini c'è una fortissima collaborazione, perché nel 2016 sono partiti su Piacenza i 12 gruppi di controllo di vicinato e devo dire che è un'esperienza affascinante perché c'è questo legame con i cittadini e con le forze dell'ordine facciamo gli incontri in questura. È una cosa che veramente sta portando i cittadini a riuscire a vivere in un modo un po' più sereno quello che è la vicinanza, il quartiere e qualche volta anche qualche situazione un po' difficile. Ecco comandante, il 2017 si è aperto, consegnerà anche una novità, quella che lascerà Piacenza? Sì, adesso ancora per qualche mese sarò qua, però sicuramente avremo anche questa novità che vedrò nelle prossime settimane. C'è tempo di fare dei bilanci, però lascerà un comando sano? Sì, assolutamente sì e soprattutto di operatori in gamba che hanno voglia di lavorare e che devo dire lavorano con buon senso, per cui mi sento di dire molto professionali e vicini al cittadino. Si cerca sempre di dare la risposta al cittadino che possa portare al cittadino un certo benessere. Un augurio dunque a tutti i piacentini per questo 2017. Sì, allora un grande augurio e un buon 2017 per tutti i cittadini di Piacenza e devo dire anche per tutti i nostri operatori della Polizia Municipale. Grazie al comandante Stefano Poma di essere stato con noi, grazie. Grazie a voi.